Con oltre 25 anni di attività sulle tematiche ambientali, Paola Fiore è una pioniera della sostenibilità. È fondatrice e direttrice di Etica Ambiente, uno studio di consulenza specializzato in soluzioni per la sostenibilità e strategie per la eco-innovazione. Inoltre Paola Fiore è la coordinatrice per l'Italia di The Climate Reality Project, l'organizzazione fondata dall'ex vicepresidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace Al Gore. In occasione dell'evento di training organizzato a Roma da The Climate Reality Project, Paola Fiore ha parlato della situazione climatica in Italia e nel Mediterraneo e delle azioni necessarie per il nostro paese. Il Mediterraneo è uno dei principali cosiddetti hot spot a livello planetario. Cosa significa? Che qui le temperature stanno aumentando e lo stanno facendo molto più velocemente rispetto a quelle che sono le previsioni dei principali scienziati del clima. Un po' come sta succedendo purtroppo al Polo Nord e questo ovviamente si porta dietro a tutta una serie di conseguenze dal punto di vista sociale, dai rifugiati ambientali e climatici, come dire, problemi di desertificazione che vediamo già in zona del sud Italia e ovviamente problemi poi di produzione alimentare. Allora la sfida prioritaria non solo dell'Italia ma dell'Europa, in realtà di tutto il mondo dovrebbe essere quella veramente di attuare una vera, una vera, reale transizione energetica per far sì che poi ci possa essere una ripresa dal punto di vista ecologico e anche sociale. sociale. Quindi il prima possibile è dismettere le fonti fossili e soprattutto incentivare il più possibile l'utilizzo delle fonti rinnovabili, in modo particolare il solare e l'eolico. Il problema vero ma altrettanto la soluzione dove sta? Nella ricerca, sviluppo di immagazzinare questo potenziale altissimo di energia e poi essere in grado di veicolarlo. è qui che dovremmo lavorare, in quest'ambito, perché questo ci fa intendere che noi abbiamo già le soluzioni al momento, cioè come dire, le abbiamo veramente sotto mano. Poi cos'altro dovrebbe fare? Beh sicuramente in base anche a questo, l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, i 17 famosi obiettivi di sviluppo sostenibile, produzione e consumo sostenibile, dovremmo, è chiaro, rivedere anche un pochino le nostre modalità, come dire, di consumare, noi onestamente consumiamo troppo, troppe risorse del pianeta, ma anche di produrre in un modo più responsabile. Questo sempre di più nell'ottica di, come dire, un'economia e una società davvero circolare, che quindi non va a sovrautilizzare le risorse limitate del pianeta, ma anzi le va a, come dire, rimettere quasi in un circolo virtuoso. Quindi noi veramente dobbiamo passare da un modo di vita che vede la circolarità in negativo a un qualcosa che invece rigenera, rigenera vita. Il problema principale di oggi, secondo Paola Fiore, è che in pochi sanno davvero cosa sta succedendo al nostro pianeta e a noi stessi. Dobbiamo anche capire che più abbiamo, dalla nostra parte, l'aiuto della tecnologia, quindi grazie a questi satelliti che sono sempre più precise nel mandare a terra ogni secondo, ogni minuto, dati di monitoraggio continuo su veramente quelle che sono e le fonti emissive, ma anche, come dire, le varie condizioni fisiche del pianeta, dall'altro lato cosa sta succedendo? E questo è l'altro grande rischio, aumenta la disinformazione. Quindi ecco perché è fondamentale che associazioni, organizzazioni come Clam Reality, come la nostra, ma tante altre, riescano a passare informazioni scientifiche, veritiere, validate e aggiornate, e questo è anche l'altro aspetto importante, a un maggior numero di persone possibili. Eventi come quelli organizzati da The Climate Reality Project a Roma hanno lo scopo di formare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali e su quello che sta succedendo al nostro pianeta. Nel nostro Paese qual è la situazione quando parliamo di attivismo climatico? Allora, ricordiamo che il nostro Paese proprio aveva ospitato la Pre-Cop e la Cop dei giovani, no? Proprio a Milano, insomma, in riferimento alla Cop 26. E ricordiamo poi in Italia una grandissima presenza del movimento dei ragazzi, ma anche magari meno ragazzi, cioè più della mia età, dei Fridays for Future, e quindi diciamo che da diversi anni in realtà c'è una maggiore sensibilizzazione tra i ragazzi più giovani, ma anche direi maggiormente anche tra le persone un pochino più avanti con l'età. Ed è chiaro che un'iniziativa come questa, e ci auguriamo che qui, come dire, anche dal punto di vista dell'informazione si possa avere una mano e ci aiuta, ci aiuta, perché sta diventando sempre più importante fare parte di associazioni, movimenti come questo. Perché? Perché via via che la crisi climatica peggiora, noi diventiamo più consapevoli, anche più informati, qual è il rischio? Quello di sentirsi impotenti, di credere che o non c'è più niente da fare o che magari a livello individuale noi non possiamo fare nulla. Tanto, cosa siamo? Siamo delle persone singole, giusto? Quanto di più sbagliato. Ecco perché è importantissimo unirsi, rimanere collegati, fare rete, fare network, e una formazione come questa di queste tre giornate ti permette proprio di farlo, ma non solo durante, anche dopo. È una cosa che facciamo non da soli, facciamo insieme ad altri e quindi non la facciamo solo per noi. La facciamo per le persone alle quali ovviamente vogliamo bene, la nostra famiglia, i nostri figli, ma la facciamo anche per la nostra comunità. E quella è la cosa fondamentale oggi, il passare dall'individualismo all'essere parte di una collettività.